La fortezza Bastiano è un avamposto morto, una frontiera che si affaccia sul niente. Al di là della fortezza c'è un deserto e dopo il nulla, il deserto dei Tartari. L'hanno certamente attraversato secoli fa e poi sono scomparsi. Buonasera, signor Drogo. Vuole sedere con noi? Grazie, eccellenza. Grazie, signori. Ne sono onorato. Lei sa qual è il punto debole di Bastiano, tenente? No, non ho idea, eccellenza. C'è troppa gente. Guardate, guardate, guardate! Tornate ai vostri posti, è in silenzio. Ma da dove verrebbero? E chi poi? Questi reparti non si dirigono verso la nostra fortezza. Non verranno. Ma comandante, quelle luci fioche laggiù, là, di fronte a noi... Le assicuro che non so di cosa lei parli. Non ho visto niente. Se finalmente dovesse succedere qualche cosa, è meglio essere in pochi. Spero che sarai tu al comando della fortezza quando il nemico attaccherà, e attaccherà certamente. Anche se mi hanno ordinato di ignorarlo. Un'attesa... Così lunga. Senza saperne il motivo. Io devo restare qui. Voglio restare qui. Certamente un giorno succederà qualche cosa. Lei mi ritiene responsabile della sua morte. No, lei non c'entra niente con la morte del conte von Ammerling. Niente. È un avvenimento che la supera. Che si pone ben oltre ciò che lei è. Ben oltre ciò che lei potrà mai essere. Bastardi. Bastardi. Lei fa bene a partire. Ma non è per questo, sa. Io sono finito qui per sbaglio. Qui o altrove, tenente, siamo tutti da qualche parte per sbaglio. Et quebrè? No, lei mi rit μου, ti è sorti di nessuna. Que... Non è sempre molto buona. Qui... Grazie a tutti. Grazie a tutti.